Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, qui con noi. Oggi farò un video di grandini massaggi, principalmente su questa zona, spalle, collo e inizio della testa, sopra il collo, però prima giustamente dobbiamo. Quindi ne approfitto per vedere. Grazie. Grazie. Andiamo le carri. Andiamo le carri. Grazie. 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 con tutti i video di massaggi, braci e cose varie così potete andarci a scompisare se ne avete ancora fonte allora quindi oggi ci dico di questa zona questa zona qui 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 questa pagina passaggi che prende il tutto questo questo Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. anzi a tutti. Alzi la mano che avrè bisogno un massaggio un poco. no a presto Vedete che persona fa come l'ha tolterla su questo? Potrebbe essere un po' più temperamenti in tappi Perché non è Non è Un po' più 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quindi posso augurarvi una buona notte, sogni d'oro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.